Vaccini, riattivato il pellegrinaio nuovo, ma l'aumento dei casi ha messo in crisi il sistema dei tracciamenti. Pontificale di Santo Stefano, l'invito alla perseveranza del Vescovo, proclamate le aziende vincitrici dello Stefanino d'Oro. Rinnovato per tre anni il progetto Emporio, nel 2021 il servizio ha sostenuto oltre 1800 famiglie in difficoltà. L'assessore Sansò annuncia un piano antidegrado urbano per il Macrolotto Zero. Nuovo allenatore per il Prato, Via Meli arriva a Favarine, il terzo tecnico da inizio stagione. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro Tg. 237 nuovi contagi e purtroppo anche due decessi. E' quanto riporta il bollettino Covid di oggi relativamente alla nostra provincia. Tra l'altro Prato è la provincia in cui vengono notificati più casi positivi ogni 100.000 abitanti in tutta la Toscana. Le due vittime sono una donna di 73 anni ed un uomo di 63, entrambi residenti nel Comune di Prato. A livello regionale sono 2843 nuovi casi e le nuovi decessi, compresi quelli registrati a Prato. Tasso di positività al 16%, ricoverati sono 569,54 in più rispetto a ieri, di cui 76 in terapia intensiva, ovvero 4 in più. Vaccini riattivato il Pellegrinaio Novo con 180 somministrazioni al giorno. Mercoledì prenderà il via a Quarrata un nuovo hub che sarà utile anche ai cittadini pratesi. Il forum che Banca Alta Toscana ha messo a disposizione della ASL. Vediamo. E' ripartita oggi pomeriggio l'attività vaccinale del Pellegrinaio Novo che era stata sospesa lo scorso 31 ottobre. Con l'intensificarsi dei casi Covid e la necessità di ridare slancio alle somministrazioni, al centro Pegaso, dove si fanno 1500 vaccini al giorno, torna dunque ad affiancarsi la sala congressi dell'ASL di Piazza dell'Ospedale Vecchio. Fondamentale, anche in questo caso, è stata la collaborazione con le associazioni di volontariato. Misericordia, Pubblica Assistenza e Croce Rossa prestano il loro personale sanitario per la somministrazione dei vaccini e per le attività di accoglienza assieme ai volontari Hauser. Al momento l'accordo con le associazioni prevede un solo turno quotidiano per un totale di 180 vaccini al giorno, ma l'ASL conta di accrescere le somministrazioni nelle prossime settimane, anche per dare risposta alle terze dosi aperte agli under 18 e dal prossimo 10 gennaio, come da indicazione del commissario Figliuolo, aperte anche a tutti coloro che hanno completato il primo ciclo vaccinale da quattro mesi, anziché gli attuali cinque mesi. Appena mi si è aperta la finestra l'ho fatto subito. Ha avuto difficoltà nel prenotare? Assolutamente no. È stata una cosa rapida, ho prenotato venerdì e diciamo direttamente per oggi. Sia la prima che la seconda ho avuto un po' di reazioni, però insomma sostenibili, ne ho parlato anche adesso col dottore, tutto nella norma, quindi sono abbastanza tranquilla. Lei ha fatto la terza dose non appena potuto? Sì, io la seconda l'ho fatta il 22 di luglio, quindi visto che adesso sono in ferie ho preferito togliermi il pensiero e essere un po' più tranquilla, insomma anche se non era passato il termine dei sei mesi, appena cinque insomma. Le prime dosi le ho fatte a Firenze, mentre la terza l'ho fatta a Prato perché sono di Prato e niente, sono arrivato, ho fatto veloce, ben organizzato, per ora tutto tranquillo, per ora tutto sotto controllo. Se buona parte dei vaccinati di oggi al pellegrinaio nuovo sono pratesi che avevano trovato posto prenotandosi nei giorni scorsi, al momento, come in passato, non è facile trovare date disponibili nei due centri vaccinali cittadini. Per molti pratesi, a partire da dopodomani, si rivelerà utile la soluzione del Lab Banca Alta Toscana a Quarrata, a pochi chilometri dal casello di Prato Ovest, ben collegata con la nuova viabilità e dotata di ampi parcheggi gratuiti. Si tratta di un centro polifunzionale da 700 posti che la BCC ha da poco inaugurato e messo gratuitamente a disposizione della ASL, sostenendo anche in proprio i costi legati alle utenze. L'accelerazione della campagna vaccinale arriva in un momento in cui il virus, spinto dalla variante Omicron, oramai predominante in tutta Italia, si propaga rapidamente. Ogni giorno il numero degli attualmente positivi in Toscana aumenta del 10%. La pressione sugli ospedali resta sotto livelli di guardia, ma ad andare nuovamente in crisi è l'attività di tracciamento dei casi e la gestione delle quarantene. A fare il punto sulla situazione per la ASL Toscana Centro è il direttore del Dipartimento di Prevenzione Renzo Berti, che abbiamo intervistato. C'è una crescita esponenziale dei casi, probabilmente innescata da questa variante, che ha una grande capacità di contagio e che quindi sta mettendo a dura prova a tanti fronti, quella della diagnostica con la richiesta dei tamponi, quella del tracciamento, quella della gestione della casistica. È veramente una battaglia difficilissima che stiamo cercando di fronteggiare con le risorse straordinarie, quindi a partire dall'impegno straordinario dei colleghi che anche le festività si sono rimboccate le mani, che sono stati a lavoro, di tanti altri che sono due anni ormai che stanno combattendo, di persone professionisti che normalmente si occupano di altre cose, ma che gioco forza, si sono resi disponibili a dare un loro contributo. Proprio per il tracciamento ci sono anche altre novità in vista, a ripartire da una centrale del tracciamento che sarà riattivata. Sì, stiamo lavorando per riaprire una centrale a Firenze, in uno spazio specifico all'interno del Mandela Forum, che è la sede più importante per la campagna vaccinale, ma che ha anche la possibilità di ospitare una quarantina di professionisti, di operatori che daranno una mano consentendo di tenere il più possibile il passo, ma la gestione del tracciamento dà come la sensazione fisica di essere sul tapirulano che scorre sempre più veloce, quindi è veramente un grande problema. Per quanto riguarda poi i riflessi sull'ospedale, c'è un leggero aumento anche da questo punto di vista per le degenze Covid? Sì, naturalmente non c'è ancora certezza definitiva sul profilo clinico di questa variante Omicron, anche se si sente parlare di una criticità non così grave. Tuttavia, quando i numeri diventano così grandi, è naturale che se c'è anche una piccola percentuale di persone che vanno in conto ad una fase critica, i numeri relativi diventano importanti. Infatti stiamo assistendo a una crescita della domanda ospedaliera, di assistenza, di ricovero. Naturalmente tutto è sotto controllo, quindi non ci sono motivi di essere allarmati per questo, però anche lì l'onda comincia ad alzarsi. Un invito alla perseveranza, alla forza di resistere nel bene anche quando può apparire inutile e perdente. È quello lanciato dal Vescovo Nerbini in cattedrale nel giorno del Santo Patrono della città. Come da tradizione, in occasione della ricorrenza, sono state proclamate le aziende vincitrici della dodicesima edizione dello Stefanino d'Oro. La perseveranza è capire che il bene ha una sua forza che produce frutti anche quando sembra inefficace e perdente. Chiediamo al nostro Santo Patrono questa virtù che ci impedisca la rassegnazione e l'inoperosità di fronte alle tante cose che non vanno. È l'invito che il Vescovo Giovanni Nerbini ha formulato nel giorno di Santo Stefano, patrono della città e della diocesi. Come da tradizione in cattedrale, si è celebrato il solenne pontificale della festa alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Nell'Omelia il Vescovo è tornato sul tema dei giovani, ai quali dobbiamo offrire spazi e strumenti per essere protagonisti e su quello del lavoro. La nostra realtà pratese ha bisogno anche di superare le tante sacche di illegalità e di sfruttamento. Se gli apparati dello Stato lavorano duramente per contrastare ogni forma di abuso, è nella coscienza delle persone e dell'intera società che deve crescere la consapevolezza del valore della legalità. È l'ambito educativo dove si vince la battaglia. Al termine del solenne pontificale, Monsignor Nerbini ha proclamato le aziende vincitrici della dodicesima edizione del Premio Santo Stefano, il riconoscimento che la città dedica alle imprese virtuose del suo distretto, che operano nel rispetto delle regole e della concorrenza. Si tratta di BBSPA che realizza accessori in metallo, dai bottoni alle borse, per i brand mondiali della moda e che tra i propri dipendenti ha un'alta percentuale di lavoratori con disabilità. Marini Industri è impresa con 80 anni di storia nel distretto Tessile, che progetta tessuti per abbigliamento femminile e maschile per i grandi marchi della moda internazionale. E Manifattura Igea, industria specializzata in filati per maglieria, che negli ultimi tempi ha aumentato la propria capacità produttiva, riuscendo a minimizzare l'impatto ambientale dei propri sistemi senza alterare la qualità dei prodotti. La cerimonia di consegna degli Stefanini si terrà sabato 12 febbraio. Ultima ostensione dell'anno, il giorno di Natale, tra le cinque canoniche previste dalla secolare tradizione. Il Vescovo Giovanni Nerbini ha mostrato, come vuole la tradizione, per tre volte la cintola all'interno della chiesa, dalla loggia del Ghirlandaio e poi sulla piazza dal pulpito di Donatello. Testimoni sono stati Stefano Guarducci ed Elena Baroncelli del Serra Club, associazione cattolica presente anche a Prato, che si impegna a favore delle vocazioni. La prossima ostensione della Sacra Cintola sarà il giorno di Pasqua del prossimo anno. Rinnovato per altri tre anni il servizio dell'Emporio della Solidarietà. Questa mattina i soggetti promotori del progetto hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa. Vediamo. Prato crede nell'Emporio della Solidarietà, il servizio nato 15 anni fa per aiutare le famiglie in difficoltà. È stato infatti esiglato un nuovo protocollo d'intesa col quale i promotori del progetto, sia di Ocesi, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Comune e Provincia di Prato, si impegnano a sostenere il supermercato solidale di Via del Seminario per altri tre anni. Si tratta del sesto rinnovo di un accordo che nel 2006 ha portato all'apertura di un progetto al tempo inedito, dare una mano alle persone colpite dalla crisi economica in modo efficace e dignitoso. Rinnoviamo l'impegno, credo sia l'impegno più importante che la fondazione ha nel sociale. Quindi noi crediamo fortemente nell'Emporio della Solidarietà, siamo stati dei soci fondatori, continuiamo a crederci, lo faremo anche nel prossimo triennio. E' importante essere insieme con il Comune, con la provincia, con la Diocesi, perché credo così facendo riusciamo a mettere a frutto le risorse che tutti insieme mettiamo a disposizione. La cura e la gestione del supermercato solidale di Via del Seminario e il suo approvvigionamento sono stati affidati alla Fondazione Caritas di Prato. L'Emporio, come sottolineato dalla Presidente della Fondazione Caritas di Prato e da Levenco, non è soltanto un luogo dove si riempie il paniere, ma dove si fa socializzazione. E' un luogo anche di socializzazione verso quelle persone che magari sono arrivati all'età della pensione e non sanno come trascorrere il loro tempo. Trovano un luogo dove poter sentirsi utile e fare del bene alle persone. E' un luogo dove anche si accolgono i giovani che vogliono cominciare a sperimentarsi con delle ore di volontariato. E' un luogo di ascolto. Qualche dato, tra gennaio e novembre 2021 l'Emporio ha avuto una presenza mensile di oltre 1.300 famiglie, un numero costante, arrivata a questa quota durante la pandemia dello scorso anno e che attualmente rappresenta il tetto massimo di tessere attive contemporaneamente. Quest'anno sono state 1.800 le famiglie seguite dal supermercato solidale per un totale di oltre 7.000 persone raggiunte dal servizio. All'Emporio sono attive anche le tessere neonato, che nel 2021 sono state 208, per aiutare le mamme a reperire prodotti per l'infanzia. Nel 2021 sono stati distribuiti i prodotti per oltre 2 milioni di euro a fronte di un impegno istituzionale di 140.000 euro. Paura ieri mattina alle 12 circa in via Leoncavallo a Prato per un albero caduto su alcune vetture parcheggiate. I vigili del fuoco del comando di via Paronese intervenuti sul posto hanno accertato che nella vettura non ci fosse nessun occupante presente. Una volta effettuati i rilievi da parte della Polizia Municipale di Prato i vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione dell'albero che aveva ostruito completamente la viabilità. Al Macrolotto Zero da gennaio parte un nuovo progetto contro il degrado urbano. Sentiamo. Una campagna di comunicazione mirata sul corretto funzionamento della raccolta porta a porta. dialogo costante con amministratori di condominio e agenzie immobiliari così come con le associazioni presenti attive nella zona ma anche e soprattutto la presenza fissa di ispettori ambientali e di un banco informativo. Sono le principali azioni che verranno messe in campo a partire da gennaio da comune, ali e polizia municipale contro l'abbandono dei rifiuti e il degrado urbano al Macrolotto Zero. Ne abbiamo messi in campo anche da altri perché se ricordate già la presenza di una pattuglia degli ispettori ambientali che è già ad oggi presente da oltre un anno. Però l'idea è quella insieme alla Municipale insieme ad Alia e all'amministrazione comunale è quella di andare a intervenire su più fronti perché è un problema complesso che non si risolve soltanto con l'elemento sanzionatorio che è indispensabile ma è la parte terminale. Noi dobbiamo, essendo un'area che è soggetta ad un turnover residenziale molto alto dobbiamo cercare di capire al momento in cui ci sono i nuovi arrivi questi soggetti a chi si rivolgano capire se può essere lo strumento per poter intervenire con una serie di informazioni come pure i condomini con gli amministratori a porre una locandina informativa in tutti i condomini del territorio la presenza di una pattuglia degli ispettori mattina e pomeriggio la presenza dell'acofurgone due giorni alla settimana insomma ci sono tutta una serie di interventi che probabilmente messi insieme noi ci auspichiamo che sinergicamente diano dei risultati positivi. Noi dobbiamo lavorare a monte dobbiamo fare in modo a monte di individuare delle modalità per cui anche coloro che non effettuano la raccolta differenziata capiscano come deve essere fatta e con che modalità. Ci spostiamo adesso a Montemurlo il 2021 per la giunta Calamai è stato l'anno della rinascita e della ripartenza il 2022 sarà l'anno della variante generale urbanistica disegneremo insieme ai cittadini la Montemurlo del 2030 detto il sindaco Simone Calamai ma sentiamo Fabrizia Prota il 2022 sarà l'anno che vedrà gettare le basi della Montemurlo del futuro lo ha fatto sapere il sindaco Simone Calamai in occasione della conferenza stampa di fine anno già dall'inizio del prossimo anno l'amministrazione comunale lavorerà infatti a una variante generale al piano operativo che promette di cambiare il volto della città il 2022 vorrà essere un anno di progetti un anno di pianificazione l'amministrazione inizierà subito a inizio anno una variante generale ai nostri piani e strumenti urbanistici e questa variante generale sarà la variante che disegnerà la Montemurlo del 2030 una rigenerazione che riguarderà non solo il centro cittadino già in trasformazione ma anche le frazioni in particolare Oste con l'abbattimento della fabbrica rossa nuovi progetti sono in arrivo anche grazie alle risorse del piano nazionale di ripresa e residenza guardando invece al 2021 è stato l'anno della ripartenza dopo la fase acuta dell'emergenza sanitaria e del sostegno alla comunità montemurlese provata dal covid L'amministrazione soprattutto ha cercato di agire su quello che era il suo obiettivo prioritario ovvero cercare di aiutare di sostenere il più possibile tutte le fasce della sua popolazione e anche le attività economiche del suo territorio questo è stato il principio guida di quest'anno tanto che abbiamo iniziato subito con tante misure di sostegno soprattutto nei confronti delle fasce della popolazione più fragile di chi ha sofferto anche maggiormente quella che è stata la pandemia e a questo riguardo basti pensare che tante misure di carattere sociale di quest'anno hanno importi pressoché triplicati rispetto a quelli che erano gli importi ordinari ripercorrendo l'anno passato il sindaco ha poi rivolto un pensiero a Luana Dorazio la giovane operaia morta lo scorso maggio in un'orditura montemorlese e rinnovato l'impegno dell'amministrazione in tema di sicurezza sul lavoro è inaccettabile morire andando a lavorare e lasciare magari come ha fatto Luana un bambino piccolo a casa brutta sorpresa a Montemurlo qualcuno appeso all'albero di Natale davanti al municipio una decina di palline con l'immagine di Adolf Hitler durissima la condanna del sindaco Simone Calamai si tratta di un episodio gravissimo che offende i valori su cui è nata la nostra Repubblica e la nostra democrazia non si tratta di una bravata sono profondamente indignato il sindaco annuncia che sono già scattate le indagini della Polizia Municipale l'area è sorvegliata da numerose telecamere sarà facile risalire agli autori del gesto con le nostre telecamere siamo andati alla scoperta dei presepi costruiti per la parrocchia di Santa Maria dell'Umiltà a Chiesa Nova a Galciana e alla Sacra Famiglia c'era per noi Silvia Fioravanti tradizionale rivisitato antico moderno il presepe ha un posto speciale nei cuori dei fedeli che nei secoli lo hanno declinato in innumerevoli modi anche ogni parrocchia di Prato ha le sue tradizioni più o meno antiche a Chiesa Nuova abbiamo trovato un presepe nuovissimo e pieno di effetti speciali realizzato da quattro amici nell'arco di tre anni il primo anno è nata soltanto la struttura il secondo anno è nata la tenda e quest'anno i movimenti ci sono tantissimi particolari che insomma rimettono in risalto un po' il presepe ad esempio c'è un arcobaleno laggiù che appare di nascosto le galline che beccano insomma c'è il movimento di tutti i personaggi ecco una cosa molto simpatica è l'angelo che appare nella grotta c'è un angelo che appare di notte i particolari di questo presepe sono stati curati in ogni minimo dettaglio e i materiali sono quasi tutti di recupero c'è anche una chicca molto simpatica le due cagnoline di una coppia che ha lavorato al presepe a Galciane invece ha trovato casa un presepe antichissimo realizzato tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento si tratta di un dono alla parrocchia da parte di una famiglia di Seano che da quest'anno abbellisce la chiesa di San Pietro Maria e Giuseppe sono vestiti con preziosi abiti ispirati a quelli dell'epoca ma nonostante i raffinati particolari si continua a percepire il calore della Sacra Famiglia un presepe più tradizionale è stato invece allestito nella chiesa romanica la chiesa della Sacra Famiglia ha dato vita a un presepe che fa della semplicità la sua forza come ci spiega il parroco Don Giovanni Chiti Gesù nasce nella quotidianità del vissuto di un popolo intento come ogni giorno nelle proprie cose nelle proprie faccende di casa in fondo il nostro presepe vorrebbe ricordarci che per cercare Gesù Cristo nella vita non importa andare a cercare chissà che cosa ma è nella quotidianità che Gesù viene a noi viene in mezzo a noi viene in mezzo al suo popolo e in mezzo a noi si fa vedere e adesso parliamo di sport calcio il Prato cambia nuovamente allenatore esonerato Marco Amelia arriva Giancarlo Favarin per la società Biancaazzura si tratta del secondo cambio di tecnico stagionale ma vediamo insieme il servizio del nostro Massimiliano Masi nuovo ribaltone sulla panchina bianco-azzurra terzo allenatore stagionale per il Prato il presidente Stefano Commini ha deciso di cambiare il secondo allenatore in corso di stagione dopo Luigi Pagliuca esonerato dopo due giornate di campionato due sconfitte con Rimini e Alcione Milano stessa sorte anche per Marco Amelia l'ex campione del mondo 16 partite 6 vittorie 2 pareggi e 8 sconfitte alla guida del Prato paga la preoccupante involuzione della squadra nell'ultimo periodo dove ha collezionato 10 partite 1 pareggio 1 vittoria e 8 sconfitte e più che altro i pesanti scivoloni quello interno con la Correggese e quello nel derby con l'Aglianese per sostituire Marco Amelia il Prato ha deciso di puntare sull'esperienza di Giancarlo Favarin 63 anni tecnico con un curriculum di prima fascia con esperienze tra le altre con Venezia Lucchese Fidelisambria Carrarese e Gavorrano al nuovo tecnico Pisano che domani guiderà il primo allenamento con i confermati allenatore in seconda Stefano Pratesi e il preparatore atletico Francesco Chiatto il presidente Stefano Comini ha deciso di affidare la squadra bianco-azzurra con l'obiettivo di uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica e traghettare il Prato verso una tranquilla salvezza con la quale poter programmare in serenità il futuro E adesso è il momento di scoprire insieme gli appuntamenti previsti per domani a Prato ed intorni con la nostra agenda Domani martedì 28 dicembre al Museo Ardengo Soffici di Poggio a Caiano alle ore 15 il cielo in un rettangolo paesaggi e colori nelle opere di Ardengo Soffici laboratori creativi per bambini e famiglie Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci Pecci Cinema alle ore 18 proiezione del film West Side Story e alle 21.15 proiezione dello stesso film in lingua originale con sottotitoli in italiano alle ore 21 alla Pieve di San Michele Arcangelo a Carmignano da Zipoli al Natale nel Mondo penultimo concerto della dodicesima edizione del Festival Zipoli i protagonisti saranno l'organista Niccolò Sari e le voci bianche del Piccolo Coro Melograno diretto da Laura Bartoli prenotazione obbligatoria sul sito del Comune di Carmignano infine alle 21.15 al Teatro Magnolfi di Prato You Rock My World ultimo appuntamento del ciclo di conferenze multimediali a cura del critico musicale Alessio Zipoli E per questa sera termina anche il nostro TG come sempre grazie per la vostra attenzione una buona serata da Maddalena Ciambellotti e da tutto lo staff di TV Prato arrivederci ho 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 Prato Allarmi vi augura un felice e sereno Natale! Ho, ho, ho! Prato Poll Vigilanza vi augura buone feste! Tuscania offre soluzioni per aziende e privati, pulizie di uffici e condomini, palestre, impianti industriali, lavaggio pavimenti e moquette, trattamento cotto e pietre naturali sono alcuni dei nostri servizi altamente specializzati, inoltre manutenzioni giardini e potature piante alto fusto. Da ormai vent'anni l'esperienza, l'affidabilità e l'ampia disponibilità di macchinari all'avanguardia sono i nostri punti di forza per un servizio di pulizia completo e professionale. Buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Vediamo insieme che tempo ci aspetta nei prossimi giorni commentando come di consueto la situazione sinottica attesa per la giornata di domani. La bassa pressione che ci ha interessato quest'oggi tenderà a spostarsi verso i Balcani favorendo un progressivo aumento della pressione a partire da ovest. Andiamo quindi a vedere le condizioni meteo nel dettaglio per la giornata di domani mattinata cielo molto nuvoloso coperto con residue precipitazioni sparse e deboli sui settori interni appenninici e sulla costa centro-meridionale. Venti a tratti moderati occidentali, mari mossi, temperature minime intorno ai 7-10 gradi quindi valori ben al di sopra delle medie del periodo. Nel pomeriggio ancora nuvolosità prevalente quindi cielo in prevalenza grigio, qualche debole pioggia nelle zone interne e sulla costa centrale, venti da nord-ovest deboli, mari a tratti mossi, temperature massime senza variazioni significative.